Mister Pagliarini, una vittoria d'oro, tre punti d'oro dopo la sconfitta 3-0 di Roma e dopo un periodo complicato per l'Avezzano. Sì, è una vittoria importante, ma soprattutto perché a Roma non ci siamo proprio presentati e quindi non potevamo essere quelli perché questa squadra non può essere quello, perché io come allenatore non posso sentirmi quello. Quindi abbiamo dato una risposta importante e adesso continuiamo. Potevamo solo migliorare, peggio di Roma City non potevamo fare. Oggi nonostante i risultati negativi abbiamo visto una squadra che comunque dal punto di vista mentale ha dato delle risposte molto importanti, soprattutto dopo aver subito il pari. Sì, sì, ma oggi come ho detto alla fine della partita della squadra la cosa importante è che nel momento in cui abbiamo preso gol, indipendentemente da come l'abbiamo preso, abbiamo dato una dimostrazione che stavamo sul prezzo. Poi io gli ho detto sempre ai ragazzi che le partite si possono vincere o perdere, però ci sono modi per vincere e modi soprattutto per perdere. Il modo in cui abbiamo perso con la Roma City non mi piaceva, le partite durano 90 e passa minuti, quindi dovevamo riscattarci perché comunque non potevamo essere quelli, al di là delle critiche giustamente che c'erano. Io parlo sempre per le mie due partite, quindi ho avuto una risposta importante e adesso dobbiamo proseguire. Che squadra si aspetta nel finale, una squadra propositiva immagino che andrà a fare la partita dappertutto? Io voglio una squadra propositiva, a me difendere piace poco, poi ci sono fasi di partita, c'è modo di difendere. A me stare a vivacchiare o non dominare la partita piace poco, quindi il mio modo di giocare è questo. Ma come gli ho detto ai ragazzi, io voglio proprio cercare di dominare la partita. A me se le partite finiscono 8-5, 7-6, 9-8, non mi interessa, a me mi interessa che la squadra è propositiva, perché ha le qualità per esserlo, è una squadra che secondo me non si può difendere bassa, perché non ha comunque gente di gamba che strappa 70-80 metri o 60 metri, questa è un'idea mia. Quindi per farsi questo dobbiamo accorciare la squadra in avanti, quindi la pressione l'ha fatta in avanti. Oggi poi ci è avvenuto tutto bene, anche chi è entrato mi ha dato risposte importanti e dobbiamo continuare. Oggi mancavano due pezzi fondamentali come Tunkara e Damczewski, come mai? Hanno avuto un piccolo risentimento e quindi siamo 28, ho la fiducia in tutta la squadra, quindi non era un problema, non mi preoccupo, io finché ce n'avamo 11 per andare in campo va bene. È una squadra forte, quindi non vedo perché se, al di là delle caratteristiche più o meno importanti, non vedo perché se manca Tunkara che sia infortunato, che ha qualità importanti o Alexander, ne troviamo altri due, non è quello il problema.